Ci troviamo all'interno dei giardini pubblici Indromontanelli dove abbiamo realizzato un'area calisthenics di circa 70 metri quadri. L'area è composta da 5 strutture multifunzionali per svolgere esercizi fisici di vario tipo e allenamenti personalizzati. L'area fitness è stata realizzata grazie a un contratto di collaborazione tecnica tra il comune di Milano e un soggetto privato, la società Tecnogym. La struttura fitness comprende parallele e mini parallele, barre per trazioni, anelli, funi, cubi da utilizzare per allenarsi liberamente in una vera e propria palestra all'aria aperta. Ancora una volta la collaborazione tecnica tra pubblico e privato, in questo caso grazie alla collaborazione con Tecnogym che ha donato al comune di Milano quest'area fitness alle mie spalle, si rivela virtuosa. Noi in questo modo rendiamo i nostri giardini sempre più accessibili, accessibili a tutte le persone anche con diverse abilità e comunque anche a chi ama fare sport nel verde della nostra città. Dobbiamo andare avanti così e migliorare sempre di più.